La heranza culturale è fondamentale. Noi siamo europei, herdiamo una cultura e la temos che preservare per le gerazioni futuri. Perchè è molto importante che le persone compreendano che fanno parte dell'Europa, fanno parte di una cultura europea. Il lavoro di insegnamento è un lavoro nel medio tra il passato e il futuro. Credo che il patrimonio culturale sia fondamentale, soprattutto oggi giorno, che nelle nostre scuole abbiamo bambini di provenienze diverse, e anche appunto che vengono da paesi diversi. È qualcosa che, e ora sto parlando specificamente sulle scienze, sono molto lineari, stricte. Non perdono le forme, le curve e le cose che altri soggetti hanno. Quindi aggiungendo questi piccoli di heritati culturale nelle lezioni quotidiane, puoi rendere i studenti più collegati con le lezioni. e questo è un modo di rendere più attenzione. e questo è un modo di rendere più attenzione. E questo è un modo di rendere più attenzione. e questo è un modo di rendere più attenzione.